E' domenica terza ed ultima giornata del quarto Memorial Massimo Scarinci 2018 di calcio giovanile, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia, giornata conclusiva con le esibizioni dei ragazzi delle categorie primi calci e piccoli amici, pubblico delle grandi occasioni, qua al nuovo, una manifestazione ben riuscita, il tempo ci ha anche graziati, 15 giorni fa eravamo tutti arrabbiati perché si prevedeva pioggia, invece grazie a Dio il tempo, il bel tempo ci ha sentito in questi tre giorni di gare. Questa metà di campo è tutta dedicata alle esibizioni dei ragazzi, siamo quasi alla fine delle esibizioni, dopo ci sarà il cerimoniale di premiazione e per concludere ci saranno anche i cuochi fidrotecnici. sono molte società, 1920, Lanciano Calcio, Miglianico, Fossacesia, Quastro Colli, ovviamente la Virtus Cassia e Frentano che si riconosce con una classica divisa giallorossa, c'è anche un altro gruppo in attesa sulle tribune. questo lato del 1920, qua la Virtus Lanciano, c'è anche il Calena, ecco, bisognavi che ha segnato la Virtus Cassia e Frentano da in fondo, a questo lato c'è lo stand gastronomico, c'è il bar, c'è il servizio medico, c'è l'ambulanza, c'è la dottoressa Carotella e il dottor Gliallori presenti proprio. fino adesso c'è stato solo piccoli interventi medici, tipo qualche contusione, abrasione, qualche visido, ma niente di grave. ieri il bambino è un titolo speccato, ma niente di grave, sono gli incidenti che possono accadere in qualsiasi momento, in qualsiasi posto. le tribune sono piene dei genitori, nonni e familiari dei ragazzi che stanno accadendo. è stato un torneo soddiviso in tre giornate, da venerdì, dedicato alle categorie più grandi, allievi e giovanissimi. dove c'è stato ieri sabato, dedicato sempre ai sortienti, pulcini, e oggi dedicato, stamattina ci sono state le finali degli allievi e dei giovanissimi. e questo pomeriggio dedicato tutti ai bebbi, dalle ore 15, dove si è cominciato a giocare. siamo quasi agli scoccioli della giornata, dopo ci sarà il cerimoniale di premazione e per concludere pochi tirotecnici. ma non è finita. lo stand bar gastronomico sta aperto fino alle ore piccole. alle prossime riprese